Eccoci al momento dell'intervista, saluto Emanuele Fiano, buonasera, nato a Milano il 13 marzo 1963, di professione architetto, deputato del Partito Democratico e responsabile nazionale con l'indelega alle riforme del PD, fin qui ho detto bene, e sicurezza, e sicurezza, ah già, e quali sono stati i suoi esordi in politica? Consiglio Comunale di Milano, sono entrato in Consiglio Comunale di Milano nel 1997, ho fatto diciamo da consigliere comunale dei DS i due mandati di Gabriele Albertini, sindaco all'opposizione, nel secondo mandato sono stato capogruppo del PD, nel 2006 sono stato candidato poi alla Camera. Ecco, un sacco di tempo, a Roma è cambiato un po' tutto, anche la vita, no? A Roma città o a Roma attività politica? La sua vita è cambiata, da Milano ad occuparsi di questioni di Milano, a finire a Roma. Sì, sì, non c'è dubbio, diciamo che ho attraversato legislature molto diverse tra di loro, ho vissuto l'ultima del periodo Prodi, il governo Prodi 2006-2008, poi la crisi, l'ultima stagione di governo a maggioranza centrodestra e la prima, diciamo, del PD al governo, prima Letta, poi Renzi e Gentiloni. Sono fasi molto diverse tra di loro, poi mi è capitato di avere incarichi più importanti nella seconda e ultima fase. Lei è stato il relatore alla Camera per il Rosatello Unbis, no? Quindi una cosa bella sul Rosatello Unbis me la dirà almeno lei, no? Ma ce ne sono diverse. Me ne dica, me ne dica nel dettaglio, perché si sente solo brutta roba in giro. Sì, intanto è una legge che spinge ad allearsi e quindi spinge ad una concezione della democrazia che per il fine del bene comune spinge forze, come succede in molte parti d'Europa, quasi tutte, a mettersi insieme per raggiungere un consenso che permetta di governare. In secondo luogo è una legge che riporta nelle mani degli elettori la possibilità di vedere in faccia chi eleggeranno nel loro collegio. 250.000 abitanti alla volta avranno un collegio, sono 232 collegi uninominali nel quale decideranno se per quel collegio, a prescindere dal fatto che loro preferiscono il partito di Poletti o il partito di Fiano, è meglio Poletti o Fiano per rappresentarli in Parlamento e poi dopo c'è la parte proporzionale, però ognuno di noi avrà un rappresentante di riferimento, cosa che non ci succedeva da un po'. Questo è vero, perché però, tanto malcontento da parte di alcuni, cosa si aspettava secondo lei la gente, cosa si aspettava la politica da questa riforma? No, sono due cose diverse però la politica e la gente. La politica... Eh, sono due cose diverse, sì. Eh sì, perché la politica, cioè nei partiti rappresentati in Parlamento, quelli che si lamentano di questa legge secondo me non ne hanno diritto, perché hanno detto di no a quattro proposte di legge completamente diverse tra di loro, quindi sostanzialmente i 5 Stelle e la Sinistra, hanno detto di no ad una legge completamente maggioritaria, modello all'inglese, il Mattarello, hanno detto di no ad una legge che era a metà e metà, hanno detto di no a una legge proporzionale. Guardi, i 5 Stelle fanno una critica, anche la Sinistra, al fatto che non ci siano le preferenze, ma forse qualcuno si dimentica che a giugno i 5 Stelle in Commissione hanno approvato una legge completamente proporzionale, dove i cittadini non sceglievano il candidato, il candidato era fermo, fisso su una lista o su un collegio e dunque c'è tutto il contrario di tutto in coloro che si oppongono a questa legge. Questa legge era l'ultima mediazione possibile, visto che non andava bene il maggioritario, non andava bene il proporzionale, è una legge che ha un terzo di eletti col maggioritario e due terzi eletti esattamente come vogliono i cittadini col proporzionale. Lei inizio ottobre disse però che nessuno sta pensando alla fiducia, poi è stato smentito. Cosa ha approvato in quel momento? La fiducia sulle leggi elettorali secondo me è l'ultima razio, è l'ultimo strumento da utilizzare e il governo ha scelto di utilizzarlo perché l'alternativa a 4-5 metri dalle elezioni era andare a votare con delle leggi scelte dalla consulta, delle leggi chiamate volgarmente consultellum, completamente diverse tra di loro, tra Camera e Senato, che avrebbero prodotto maggioranze diverse, sicuramente diverse tra Camera e Senato e dunque che avrebbero consegnato questo Paese, al di là di quello che sarà il risultato elettorale, ad una totale instabilità, come è successo in Grecia, come è successo in Spagna. Lei, che è un giornalista attento, sa che cosa è successo alle pensioni e agli stipendi pubblici greci tra le tre elezioni, sa che alla fine Tsipras, che è la sinistra che ha vinto, è stato costretto alla fine per fare un governo ad accogliere 15 voti di un partito di destra, non di destra moderata, di destra a destra per riuscire a fare un governo. Sa che in Spagna per evitare la terza votazione i popolari hanno dovuto chiedere il sostegno esterno di un partito completamente contrario ai loro dei come partito socialista. Dunque, andare al voto con delle leggi, a parte non fatte dal Parlamento, ma da una consulta, completamente disomogenee tra di loro, non in grado di dare due maggioranze uguali. Guardi, una cosa semplice, al Senato sarebbero passati solo i partiti sopra l'8%, l'8% vuol dire quattro partiti in Italia, PD, 5 Stelle e Lega e Forza Italia, alla Camera sopra il 3%, quindi avremmo avuto partiti completamente differenti, oltre al metodo elettorale che era diverso. E quindi il governo ha scelto che al fine di evitare, dopo quattro tentativi esperiti, come dicono le persone colte, e io glielo posso dire perché le ho proposte io, alla Camera con i quattro modelli di legge precedenti, si doveva prendere l'arma finale che era quella del voto di fiducia, che peraltro non è impedito dalla Costituzione. Cosa pensa del Presidente Grasso, la sua scelta di fuoriuscire dal PD ed entrare nel gruppo misto? Ho usato parole di fuoco contro di voi, parlando di imbarazzo provato per quanto riguarda la decisione appunto di apporre la fiducia, cosa ne pensa? Rispetto la sua decisione che non condivido, però la decisione di lasciare un partito è una decisione sommamente personale ed è giusto che chi non si sente a casa propria, cosa che mi fa molto dispiacere, scelga di percorrere un'altra strada. Poi io non ho una conoscenza diretta, il Presidente Grasso è un atto forte che mi dispiace come tutti coloro che lasciano il PD. Il PD certo ha fatto scelte nel corso di questa legislatura che hanno prodotto delle volte dei risultati anche in termini di persone, di abbandoni che noi non avremmo voluto. Ci saranno stati anche degli errori da parte nostra. Ma c'è chi dice invece che lui si voglia riposizionare per le prossime elezioni? Non saprei rispondere. Può essere che abbia in mente di fungere da persona che mi auguro che questo sia il suo progetto, che magari vuole tenere insieme coloro che già sono usciti dal PD fondando un altro partito e coloro che ancora ci stanno. Vede questa legge, proprio per quello che dicevo prima, nei collegi, e questa è la tanta contrarietà che viene dai 5 Stelle, spinge a fare alleanze. Matteo Renzi? 5 Stelle dicono Verdini, Verdini. Rispondo su Verdini. Renzi domenica ha detto non abbiamo preclusione o veti per nessuno a sinistra sulle alleanze e così non abbiamo al centro. Verdini non l'ho sentito nominare. Che strano quando abbiamo approvato la legge sulle unioni civili o quando abbiamo approvato la legge sul caporalato o altre cose che hanno introdotto nel nostro paese una maggior dote di diritti. Vi ha dato una mano. Molte altre volte però. Lei sta dicendo ha dato una mano alla civiltà del paese. Quelle volte lì sui diritti civili. Ma lei lo sa, noi abbiamo iniziato una legislatura senza maggioranza al Senato. D'altra parte non è Renzi, è Bersani che ha cercato alla fine, dimettendosi, però i voti di Forza Italia per dare vita al governo Letta. Certo, poi uno che fa il mestiere dell'oppositore, che è legittimo e del sale della democrazia, viene qui e le dice, non so se avrà modo di intervistare qualcuno dei 5 Stelle, e le dice no, 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 bisognava andare a votare. Però io gli ho fatto due esempi, Grecia e Spagna. Vado a vedere cosa è successo in Spagna nel momento della crisi di governo. Che in democrazia ci sono momenti in cui tu devi decidere se bisogna far tornare ad esprimere gli elettori sapendo che hai in mano una legge che non produce maggioranza, oppure se devi prenderti l'onere di formare maggioranze anche eterogene. D'altra parte, scusi, la Merkel in Germania, la Merkel, cioè il partito che in Germania rappresenta l'industria, l'industria pesante, la confindustria, farà un governo con i verdi e nessuno in quel paese ha gridato allo scandalo. Oppure le potrei fare un altro esempio di come io penso dovrebbe funzionare la democrazia, visto che mi parla giustamente di Verdini, come si fa ad impedire che una persona così diversa dal PD dia i propri voti? Con un metodo elettorale come quello della Francia, che era quello che avevamo proposto noi per l'Italico. In Francia c'è un presidente, Macron, che governa, giusto o sbagliato che sia, con il 23% dei voti dei francesi. Io non ho la risposta certa, però faccio una domanda ai suoi telespettatori. Ma è un bene per la democrazia o un male che uno con il 23% governi, piuttosto che o non governi nessuno oppure ci si debba alleare con i Verdini o Berlusconi. Noi avevamo proposto quel modello di legge all'Italico. Ci sono due punti sul tappeto, il Biotestamento e lo Iussoli. Sul Biotestamento lei che pensiero ha? Che dovremmo fare e faremo ogni sforzo fino all'ultimo secondo della legislatura per farlo passare. La relatrice, che tra l'altro è di Milano, Emilia De Biasi, presidente della Commissione Sociale del Senato, si è dimessa perché la legge così ha saltato le migliaia di emendamenti presentati, credo soprattutto dalla Lega, in commissione. Quindi la legge è in aula e, per esempio, io penso che molti di noi, non so cosa ne pensa lei, non avrebbero nulla da ridire se su questo punto venisse messa la fiducia per portare l'Italia a... Io penso che sia giusto che uno possa decidere liberamente se vive o non morire in caso di un male incurabile. Per quanto riguarda lo Iussoli, qual è la sua opinione? Anche lì che bisogna fare ogni sforzo. Ma è la priorità del Paese, come dice Salvini, come dicono... Ma io non capisco mai questa domanda. Le leggi di una legislatura, i provvedimenti tra normativo, legislativo, risoluzione di una legislatura saranno stati, non so, duemila circa. Uno si chiama Iussoli. Sì, però lei è responsabile, lo ricordava prima e io me l'avevo dimenticato, è responsabile della sicurezza del PD. Questo tema è rinviabile? Ma io faccio questa domanda. Giovani, pensioni, povertà, casa, periferie, non vengono prima? Ma sono venuti prima nel corso della legislatura. Noi abbiamo 2 miliardi investiti per la prima volta in Italia per un assegno di reinserimento, cioè una manovra contro la povertà. Abbiamo investito 500 milioni nel corso di quest'anno, lo rifaremo negli anni prossimi, e sono stati approvati tutti i progetti, quindi iniziano i progetti esecutivi e i cantieri, per la riqualificazione del nostro periferico. Ci siamo occupati dell'estremismo islamista, come mai prima nessuno aveva fatto, approvando alla Camera, e vi auguro che riusciremo a farla e forse ce la facciamo anche al Senato, una legge contro la radicalizzazione islamica. Abbiamo approvato una legge antiterrorismo, lo dico per rispondere ai temi di Salvini, che tutta Italia apprezza. La Francia, Macron, ha appena approvato un nuovo sistema legislativo antiterroristico francese, che prende molti punti dalla legge approvata due anni fa. Tra tutte le manovre che riguardano il futuro di questo paese c'è un tema che si chiama 700 mila bambini, figli di famiglia regolare, o nati in Italia o arrivati prima dei 12 anni, ai quali non vogliamo dare l'automatismo di diventare italiani, vogliamo che passino con loiusculture attraverso le scuole. Ma questo è un tema che riguarda la sicurezza? Cosa c'entra? Il terrorismo... Non c'entra niente, però secondo sondaggi anche recenti è aumentata la percezione che gli immigrati, fa tutto un minestrone, lo faccio pure io nel fare la domanda, che gli immigrati siano una minaccia per la sicurezza individuale, diminuisce l'idea che gli immigrati siano una risorsa per l'economia, insomma vi state infilando in una strada un po' tortuosa. Guardi, a me piace essere onesto, non è una fandonia che c'è un legame tra la questione dell'immigrazione e alcuni aspetti della criminalità o della percezione di insicurezza, della paura. C'è un fondo di verità. Questo è un punto, se vuole ne parliamo. Il secondo punto è, invece c'è un nesso tra la criminalità e lo iussoli? No, io lo so questo e so distinguere tra i punti, però nel fermento della campagna elettorale si fa tutto un gran minestrone e poi hanno la meglio quelli che fanno il minestrone, non quelli che mi spiegano gli ingredienti che non c'entrano niente. Cioè, se lei mi dice, se allora, se capisco bene, quello che lei mi dice si traduce nella domanda, ma non è che vi fate un danno elettorale. Eh, questa è la domanda. Io, non la sfera di cristallo, penso di no, nel senso che quelli che apprezzano le idee di Salvini o... Che stanno crescendo, stanno aumentando. Non è che cambiano, cioè, invece se non facessimo lo iussoli voterebbero PD. Io penso che, per esempio, se le posso dire, in questo periodo, chi è uno, anche sabato, alla nostra conferenza programmatica di Napoli, dei sostenitori in questo momento lo iussoli? Minniti. Cioè, si può dire di Marco Minniti, il ministro interno, che negli ultimi dieci mesi non abbia lavorato su tutti i fattori di paura, di insicurezza, di criminalità e anche sull'immigrazione. Leggevo adesso i dati. Stiamo viaggiando verso il 40% di... Se non mettevate prima, lavoravate meglio. Perfetto. Accolgo la sua posizione e condivido. Ma parliamo di quello che sta facendo. Quindi, la persona che ha messo ancora più soldi nelle forze dell'ordine, si è occupato tantissimo di immigrazione, ha ridotto i flussi, ne rimanda indietro di più, si è occupato di far sì che vengano fermati direttamente dai libici, dice anche, per quello che riguarda invece gli aspetti di coloro che sono regolari, perché noi ne stiamo parlando degli irregolari, lo iussoli è una cosa giusta. Quello che voglio rispondere io, non alla sua domanda, perché lei mi riporta giustamente opinioni che sono molto diffuse, è che si possono fare le due cose insieme. Combattere senza pietà il terrorismo islamico, la criminalità, tutto ciò che riguarda questo tema, gli aspetti negativi indotti dall'immigrazione e contemporaneamente avere a cuore la salvaguardia dei diritti. Ne parliamo di questo e di altro subito dopo la pubblicità. E siamo tornati con Emanuele Fiano, Partito Democratico. L'Italia è un bel paese, secondo lei, perché l'Europa ci chiede una legge contro la tortura per quanto è successo nel lontano 2001 alla caserma Bolzaneto di Genova. Lei ha detto che Bolzaneto è stata una pagina orribile della nostra storia, non ci possono essere giudizi diversi, questa sentenza lo conferma ancora una volta. Allora, come mai in tutti questi anni di governo del Partito Democratico non siete riusciti ad approvare una legge contro la tortura? È una buona domanda. Intanto mi pare evidente che Bolzaneto ci sia stata una pagina orribile, credo che non la difenda nessuno, neanche ne appartenenti dalle forze dell'ordine, perché un conto essere duri contro la criminalità, come dicevamo prima, un conto è prendersela con dei ragazzi inermi. La legge contro la tortura, che secondo me è giusta, incontra alcune difficoltà che riguardano l'operato delle forze dell'ordine. Io ho molti rapporti con le forze dell'ordine per l'incarico che ho avuto da tanti anni, gli operatori ci dicono, attenti, un conto è punire gli atti come quelli di Bolzaneto, un conto è prendersela con un poliziotto o con un carabiniere se nel corso di un fermo, di un trattenimento, di un mantenimento di qualcuno in una cella di sicurezza non si sta torturando una persona, ma ci sono degli episodi riconducibili alla necessità di... Ho capito, ma a chi diamo la colpa per quei fatti? Cioè, ai poliziotti che hanno eseguito gli ordini, ai graduati, gli ufficiali, a chi? Cioè, il fatto che nessuno abbia pagato per davvero? No, no, ci sono delle persone condannate, come no? Se ne andò uno dei più alti gradi della polizia italiana per le vicende di Genova, ognuno in una catena gerarchica, ci sono responsabilità diverse. Chi diede l'ordine, chi sbagliò a impostare così quell'azione, oltre alle persone che direttamente avessero commesso i fatti contro l'idea di civiltà, al di là delle leggi, perché lì ci furono delle omigliazioni come leggi. No, però attualizzandolo, non crede che un agente di polizia sia già abbastanza nell'occhio del ciclone? Ogni giorno cercano di dare la caccia a ladri, farabutti, assassini, la paga è quella che è, anche se voi avete, mi dirà, abbiamo aumentato le risorse, è vero, avete aumentato le risorse per le forze dell'ordine, cioè un poliziotto è già abbastanza nell'occhio del ciclone per temere che un comportamento un poco brusco possa essere frainteso e considerato addirittura tortura. Ma infatti è per quello che la legge è stata scritta con molta attenzione e molto dialogo con i sindacati di polizia per impedire che un comportamento brusco venga uniformato ad un comportamento di tortura. Il problema è la dignità anche di coloro che pur avendo commesso un reato devono essere trattati come esseri umani, colpevoli, passibili di una pena, di un trattenimento in carcere, di un arresto, di un processo, eccetera, eccetera, ma non da trattare senza dignità. Io convengo con lei, infatti io sono uno di quelli che sostiene che bisogna stare molto attenti nella legge contro la tortura a punire quelle che sono effettivamente torture, non a rendere impossibile la vita di coloro che devono garantire la sua sicurezza. Volevo fosse chiaro questo, perché poi è un'altra delle armi che viene usata in campagna elettorale dall'altra parte. Sembra una risposta chiara. Le chiedevo prima se lei considera questo ancora un bel paese, perché di fronte a quella foto a dir poco irrispettosa di Anna Franca con la maglietta della Roma, si potrebbero usare altri aggettivi, c'è davvero da chiedersi che l'Italia sia questa o no? Sì, l'Italia è un bellissimo paese. Sta porcheria qui? Dobbiamo ancora molto curare l'educazione e la cultura di questo paese, in particolare... A lei come l'ha lasciata questa vicenda? Ma con... Vuole sapere qual è il mio sentimento... Perché non è neanche ignoranza, c'è qualcosa di peggio dell'ignoranza. Beh, è anche ignoranza. È qualcosa di peggio dell'ignoranza. A me lascia frustrato che non si conosca quella vicenda, che non è l'unica della storia ovviamente da conoscere. Sa perché? Questa vicenda è particolare. Questa ragazzina dovrebbe essere, per chi la conosce, per chi ha letto il diario, l'emblema della discriminazione. Perché una ragazzina di 13 anni che ha la sola colpa di essere nata ebrea viene prima tenuta segregata per due anni e poi uccisa e bruciata. Invece viene utilizzata come epiteto, come insulto. Cioè, siccome tu sei romanista, io ti odio perché sono laziale, succede anche dei romanisti diversi laziali o di altre tifoserie, allora ti do dell'Anna Frank. Guardi, quello che penso io è che la stupirà perché io sono l'autore di una legge diciamo così che vieta l'apologia di fascismo, ma la mia, lo dico tutte le volte che mi fanno questa domanda, la mia più profonda convinzione è che questi fenomeni non si combattono con il divieto, si combattono con la conoscenza. Io ho, in un'altra trasmissione... C'è da rieducare, tra virgolette, che è un brutto termine anche questo, c'è da rieducare intere generazioni. Io ho fatto una proposta che ovviamente è simbolica, non so se ci riuscirò, ma anche dalla sua trasmissione faccio questo appello. Mi permettano i genitori di conoscere i tre ragazzi minorenni coinvolti in questo episodio, perché io, a mie spese, li vorrei portare a visitare Auschwitz a raccontarle lì cosa è successo, perché secondo me semplicemente non sanno... Sono ragazzini di meno di 18 anni, minorenni, ma cosa è mancato in quelle famiglie? Uno di 13 anni e due di 15, tra l'altro. È mancata la cultura, la conoscenza. Poi c'è anche un altro fatto da dire, c'è qualcosa che attraversa il nostro calcio. Lei, Poletti, conoscerà il tifo in tutta Europa, ma la quantità di episodi di insulti, vergognosi, epitidi dei nostri stadi non è paragonabile agli altri stadi. Cioè, diciamo una cosa chiara. Il calcio malato. Quegli striscioni che voi state facendo vedere, a prescindere dal fatto che siano bandiere naziste o emblemi di Mussolini, ma anche se fossero di altre cose cariche di odio, di incitamento all'odio, in altri paesi, prima di tutto la Gran Bretagna, sarebbero sparite dopo 10 secondi. E qui li consideriamo normali e li mostriamo in televisione. No, non lo so se li consideriamo normali. No, io temo di sì, perché... Siamo troppo lassisti. Restano lì, restano lì... Guardi, il sistema della Gran Bretagna ha funzionato in generale con gli uligas, sa parte di razzisti, ma lì ci sono, lei sa, le celle direttamente negli stadi e i processi per direttissimi con il giudice nello stadio. Tu commetti un reato di qualsiasi tipo, vieni giudicato per direttissima, ti tengono dentro, poi ti trasferiscono in carcere. E sono riusciti a debellarli. Io vorrei tanto che riuscissimo a farlo. Una cosa sola sono riuscito a fare appena Renzi mi insegnò nella segreteria come responsabile della sicurezza. Da qualche anno le squadre di calcio partecipano ai costi della sicurezza ai nostri stati. È una piccola cosa, però mi pare il 3% degli introiti per pagare i poliziotti e i carabinieri che vanno negli stati lo pagano. Parliamo di futuro, magari di quello politico. Ora dovete gestire MDP articolo 1 che stante le vostre aperture ha detto che però non vede spazio per possibili alleanze. Sono irresponsabili? Consegneranno il paese alle destre o quella roba di destra o semidestra? Ma se continuasse questo loro modulo di risposta sì. Io penso che ci sia ancora un po' di tempo e che la concretezza dei dati magari anche qualcosa che vedremo in Sicilia potrebbe pensare a maggior buonsenso. D'Alema disse qualche settimana fa faremo nostri candidati ovunque cioè andremo da soli e dovrebbe valutare poi il fatto che il PD prenderà una certa somma ai deputati non so quanti alta abbastanza alta articolo 1 con i numeri diciamo che valgono non so il 5% io non ho idea vorrebbe dire portare a casa 20 deputati e dopo di che cosa te ne fai? Della pura rappresentanza perché tu giustamente vuoi correggere le condizioni di lavoro di stipendio tutto quello che vuoi cultura, informazione produzione ma se hai un gruppetto che non può in alcun modo influenzare le scelte politiche del Parlamento sia che sei al governo che sei all'opposizione stai facendo un errore per questo io ho apprezzato le parole di Matteo Renzi che ha detto nessuna preclusione certo se la preclusione è il nome di Matteo Renzi diventa difficile fare politica se invece la preclusione è sulle politiche cioè vogliono discutere con noi di cosa si possa fare su Jobs Act piuttosto che sulla scuola discutere si può sempre noi ci conosciamo dai tempi in cui lei era un giovane consigliere comunale e ora un giovane giornalista il tempo passa per tutti per lei no com'è cambiata sta città perché le periferie hanno ancora tutti quei problemi di quella volta là di quelle volte là di quegli anni lì sono gli stessi problemi gli stessi meccanismi ed è pure noioso raccontarli perché si ripropongono anche le stesse facce a dire ho io la soluzione poi quelle facce magari vanno in governo non la risolvono come se ne esce qui un po' a ragione nel senso che le periferie in questo paese non solo a Milano sono un bel problema e primo punto io l'ho detto anche intervenendo alla nostra conferenza programmatica è troppo in basso nell'agenda dei partiti la questione della casa ci vorrebbe una doccia di miliardi in questo paese per risolvere con non so centomila abitazioni edilizia residenziale pubblica nel paese questo benedetto tema che poi crea occupazioni abusive e sull'occupazione abusiva arrivano gli immigrati clandestini cioè è tutta una sfera io vedo alcuni segnali positivi io abito in periferia sono nato in periferia a Milano al Giambellino al Giambellino ci gira ancora abito lì ho moglie e figlio vado a fare la spesa da un anno è partito un progetto Regione Comune Europa con 65-70 milioni di investimento non poco per il rifacimento di uno dei quartieri più complicati della nostra città la seconda cosa è che Milano dopo l'Expo ha avuto lo saprà anche lei un risveglio non basta come dice lei il risveglio al centro la darsena piuttosto che le mostra serve un fortissimo investimento nelle periferie io mi auguro che il piano sulle aree di smesse delle ferrovie che parte a Milano possa essere un traino per una riqualificazione completa delle nostre periferie anche perché non c'è solo il Giambellino ho detto Giambellino perché lo conosco poi la gente no dico Giambellino stanno partendo dei progetti però da altre parti non si hanno notizie di progetti che partono e poi sono i soliti problemi gli insediamenti tutte le robe che sappiamo poi la gente diventa razzista questo è vero userei una formula più ampia rispetto non c'è solo il razzismo il vuoto in politica si riempie se i partiti tradizionali metto anche noi però metto anche il centrodestra tradizionale non si occupano delle cose più basilari della vita la casa i soldi nelle periferie del lavoro la convivenza con gli immigrati gli immigrati clandestini i campi abusivi se ne occupa qualcun altro quindi se ne occupano in genere persone più estremiste o che magari cadono nel razzismo d'altra parte scusi dove sono più forti per dirne una casa pound e forza nuova nelle periferie dove mancano altri a partire da noi è colpa vostra che non ci andate sto facendo autocritica faccio autocritica anche su questo punto non che non abbiamo fatto niente ne abbiamo fatte di cose ma non abbastanza e dunque io penso che per riconquistare un contatto con le persone serve tornare a problemi basilari certo che poi ci sono l'export le banche il jobs act come problema globale però ci sono anche i problemi molto terra terra quelli di cui parla la gente nei mercati o nei quartieri poi anche i sindaci che mettiamo lì per aggiustare marciapiedi e tombini non solo naturalmente si occupano di massimi sistemi sto dicendo i sindaci in generale non voglio andare a sala se anche i sindaci si occupano di massimi sistemi le periferie poi diventano gioco forza ostaggio di questi qui di destra che almeno dalla vecchietta vanno per sapere come sta devo dirle non è un contraddittorio ma lo direi anche se qui ci fosse un esponente di 5 stelle che molte persone avevano riposto speranza in loro che hanno avuto in mano due delle più importanti città italiane Roma e Torino non mi pare che questo grande cambiamento che loro avrebbero dovuto portare stia dando al Torino non so Roma è una porcheria assoluta peggiorata chiudono l'unico Torino che è il braccio destro come lei mi dice che ogni tanto strizzo l'occhio il 5 stelle chiudono l'unico insediamento Rom che funzionava ed era un modello per tutta Europa lo chiudono e mandano la gente per strada gli altri riusciano aperti non so che modo di amministrare sia probabilmente c'è una strategia che non ho capito lei? no io penso che ci sia incapacità non che ci sia strategia penso che non basti essere nuovi per essere migliori penso che per essere migliori si debba avere testa e capacità che per almeno a Roma non vedo a Torino mi ha molto colpito che il braccio destro della sindaca per una multa di 90 euro abbia fatto quello che ha fatto in una telefonata infatti si è dimesso quindi lo dico perché io sto parlando del fatto che in politica i vuoti anche in periferia si riempiono le riempiono ideologie estreme molti in Italia hanno pensato che i 5 stelle fossero un vento completamente nuovo non direi come vede il suo futuro? brevissimo dove si vede? io vorrei continuare a occuparmi di questioni legate alla sicurezza all'integrazione perché penso che su questo oltre che saranno sicuramente due dei temi principali della campagna elettorale si giochi il futuro della democrazia o le forze progressiste democratiche sono in grado di sciogliere quei nodi di risolvere con i problemi mantenendo saldi i principi oppure viene sempre qualcun altro che ha principi diversi dai nostri ma propone ai cittadini soluzioni più sbligative più semplici molto pericolose buon lavoro e alla prossima grazie grazie grazie